Cico hai un futuro da libero se dovessi cambiare ruolo, hai fatto delle belle ricezioni, delle belle difese. Avete lottato in generale su tanti palloni, non è bastato? Beh dai, adesso diciamo che la parentesi è chiusa, cioè l'avevamo già chiusa domenica scorsa a San Giustino dopo quella brutta partita. Oggi sapevamo che comunque adesso ci aspettano delle partite per noi sulla carta un po' impossibili. Però penso che oggi un po' il cuore, la grinta, nonostante con una formazione diversa perché a me praticamente non è stato utilizzabile in nessun momento. Henry secondo me ha fatto bene il suo, niente, continuiamo a lavorare così che pian piano qualcosa di buono verrà fuori sicuro. Poi per quanto riguarda il libero, io mi sto impegnando tantissimo a ricevere, però per il momento fare il libero non esiste assolutamente. Quanto è contata magari anche un po' di inesperienza, soprattutto al giro di Boa dei set, a eccezione del secondo che avete vinto? Un po', loro secondo me oggi non è che abbiano fatto chissà quale partita. Come sempre siamo noi che ci incastriamo in diversi momenti a fare così. Sì, poi compreso me, insomma, avendo la squadra così giovane in alcuni momenti facciamo veramente degli errori stupidissimi. Questi vengono pagati subito con squadre del genere. Però vabbè, dai, un po' di incoscienza ci sta. Secondo me abbiamo fatto dei miglioramenti sicuro rispetto a domenica scorsa. Continuiamo così e poi vediamo. Adesso poi c'è Macerata, ancora più impossibile di Cuneo sulla carta. Ma se poi pensi che andiamo a Vibo e giocare a Vibo non è facile, poi abbiamo Trento in casa, andiamo a Piacenza. È un po' dura. Adesso vabbè, Macerata è un po' rimaneggiata, con la scusa di tutti questi infortuni, però sono forti. Anche voi non ne avete pochi di infortuni. Io non dico niente perché le cose si sanno. Niente, cerchiamo, come ti dicevo prima, di dare il meglio ogni settimana, in quei pochi che siamo, visto che purtroppo dobbiamo sempre a capare con tanti infortuni. E niente, giocarci le nostre carte alla domenica. Grazie. Grazie.